Musica Scaldano i termini della carcerazione preventiva e torna in libertà con obbligo di dimora, MLD. Il quarantenne sul Monese è finito sotto la lente della magistratura per la più grossa operazione antidroga svolta negli ultimi tempi sul territorio. Esattamente un anno fa, il 29 settembre 2022, questa testata dava notizia del suo arresto e rintraccio a Marbella di Spagna dopo un periodo di latitanza durato tre anni. Il giovane si era reso reperibile il 24 ottobre 2019 dopo la custodia della remessa della GIP per l'inchiesta Droga Negaraggio che portò l'autorità giudiziaria ad arrestare complessivamente cinque persone e a sequestrare un chilo e mezzo di cocaina, 14 kg di hashish, 13 kg di cannabis. Il prossimo 3 ottobre riprenderà a riguardo l'udienza preliminare. Dopo incessanti indagini, gli uomini del nucleo mobile delle fiamme gialle erano riusciti a ricostruire la filiera dei movimenti del giovane. Le notizie raccolte dai militari della compagnia di Sulmona, veicolate a servizio per la cooperazione internazionale di polizia, lo SIP per il tamere del secondo reparto, l'ufficio di cooperazione internazionale e i rapporti con enti collaterali del comando generale della Guardia di Finanza avevano portato all'attivazione dell'organo collaterale iberico che aveva poi provveduto all'arresto del giovane per il rimpatrio in Italia avvenuto a ottobre dello scorso anno. Rinchiuso prima nel carcere di Rieti, poi a Chieti, dove è rimasto fino all'altro giorno la scadenza dei termini preventivi, dall'inquirenti veniva considerato come persona capace di movimentare, gestire e far trasportare anche in relazione allo spaccio a dettaglio cospicui quanti relativi di cocaina e di hashish. Il suo rintraccio, che sempre secondo gli investigatori potrebbe avere a che fare con l'operazione di busse di giugno 2022, portò la procura a chiudere le indagini preliminari e a chiedere rinvio a giudizio per i 5 sotto inchiesta. A un anno di distanza da rintraccio, a 4 anni dall'emissione della custodia catelare, l'uomo torna in libertà con obbligo di dimora sul territorio comunale di Sulmona. Avrebbe rifiutato di visitare il paziente, adducendo la non urgenza della prestazione, arrivando perfino a stilare un referto falso. Per questi motivi un medico di 73 anni, GM e le sue iniziali, che un anno fa prestava servizio nel pronto soccorso dell'ospedale di Casteldisangro, è finito davanti ai giudici del tribunale di Sulmona, per omissione ai dati d'ufficio e falsità ideologica commessa in atti pubblici. La vicenda risale al 25 luglio dello scorso anno, quando, in seguito a un sinistro stradale avvenuto due giorni prima all'estero, un paziente si era recato in pronto soccorso con il volto tumefatto al fine di richiedere le cure mediche. Lo so come vanno queste cose, avrebbe risposto il medico di turno, senza avvicinarsi al paziente, dandoli le spalle durante la visita, adducendo che l'uomo si era recato in ospedale solo per l'emissione di una prognosi per scopi strumentali. Il non proprio zelante sanitario avrebbe indebitamente rifiutato un atto del suo ufficio, che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo, inducendo il paziente a lasciare pronto soccorso, salvo poi tornarvi la sera stessa, quando un altro medico puliva la ferita e gli applicava punti di sutura. Ma c'è di più. Sempre secondo l'imputazione, quale pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il medico, stirando il referto, avrebbe attestato falsamente che il paziente presentava ferite cicatrizzate, poiché qualche ora dopo il suo collega diagnosticò ferite non cicatrizzate, giudicate guaribili con una prognosi di otto giorni. Una doppia e grave accusa per il sanitario finito alla sbarra, uno di quelli che la AS l'aveva impiegato anche per l'emergenza pandemica, al suo avvocato Alessandro Margiotta, il compito di smontare il castello accusatorio. Un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle spese processuali e al risarcimento della parte civile, questa è la pena che il giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha combinato un 31enne di Sulmona, RC le sue iniziali, finito alla sbarra per il reato di atti persecutori. Una sequenza di vessazioni che sarebbero avvenuti nel giro di pochi mesi, nel 2021, ai danni di una donna residente a Castel di Sangro. Da quanto si è appreso, il giovane avrebbe contattato la vittima sulla sua utenza cellulare, in seguito, verosimilmente, a un incontro occasionale. Lui voleva una frequentazione più assidua e lei no, è scattato quindi tutto il repertorio dell'uomo padrone, con appostamenti, pedinamenti, continue telefonate, fino a quando il 31enne, secondo l'accusa, avrebbe perfino creato dei profili fake su Facebook, per poter contattare e monitorare la vittima, che lo aveva bloccato, su tutti i canali di comunicazione. Ne è scaturito uno stato d'ansia perdurante, tant'è che la donna, costretta a modificare il proprio stile di vita, si sarebbe fatta ascoltare, per diverse settimane da alcuni conoscenti, per timore di incontrare il suo stalker, un vero e proprio incubo, che è finito con la denuncia querela, l'intervento della magistratura, oggi la condanna a un anno e mezzo di reclusione. Un forte boato, poi l'esplosione nel cuore della notte. Ancora sottotiro al ristorante del Sapore Biod, sul monese Panfilo Colonico, rapito in Ecuador lo scorso giugno, rilasciato dopo quattro giorni di sequestro, dietro il pagamento di 200 mila dollari, l'altra notte un altro attentato, è stato di scena davanti alla sua attività, due bombe Molotov, gettate nel cuore di Guayaquil, da altrettanti uomini immortalati dalle telecamere di videosorveglianza del locale, non un atto vandalico, ma una spedizione, o comunque un colpo mirato, fortunatamente nell'esplosione non si sono registrati feriti, anche se Benni conta i danni. Sì, c'è stata un'esplosione ieri sera, intentarono di nuovo a farmi ponere paura, però non è indiricato, l'abbiamo parato subito, non c'è se a Dio stiamo chiusi. Quando mi hanno chiamato ieri sera, stavo tanto arrabbiato, infatti ho litigato con la televisione, ho litigato con la polizia, ho fatto fino a che punto lleghiamo a questo punto, con tutto questo, che non abbiamo nessuna sicurità, e tutto questo. Così sul Monese si sfoga il telefono con onda TG, un'escalation di intimidazioni che non lo lasciano tranquillo, ma nemmeno lo scoraggiano, ad abbandonare il suo progetto e il suo ristorante, tra i più rinomati. Sui motivi alla base dell'attentato, indaga la polizia. Differire di un anno la rivoluzione nelle parrocchie della dioce si risumma una valva e la proposta dell'ultimo minuto che un gruppo di fedeli della Basilica Cattedrale di San Panfilo ha presentato al vescovo diocesano, Monsignor Michele Fusco, per evitare l'imminente trasferimento del parroco Don Domenico Villani. In relazione alle avvicendamenti nelle parrocchie di questa chiesa diocesana, riteniamo che le singole comunità debbono avere il tempo necessario di prepararsi a cambio della guida spirituale, che per molti, soprattutto per i fragili, rappresenta un punto di riferimento inamovibile. Per questo, pur riconoscendo in pieno la bondà e lo spirito del percorso adottato, la pastore diocesano, chiediamo di differire di un anno i termini d'attuazione dei decreti di nomina. D'altronde, come se vince sul sito internet della diocesi, il prossimo anno pastorale la chiesa diocesana di Sulmona Valba avrà a disposizione due nuovi sacerdoti, di recente ordinati diaconi, per i quali sin da ora assicuriamo fervida e assidua preghiera. Si fa riferimento in un passaggio della lettera spedita al bescovo. Il presole, nei giorni scorsi, aveva incontrato in episcopio una delegazione dei parrocchiani della cattedrale di Scanno, che ora fanno fronte comune per tentare, almeno alcuni di loro, di arrivare ai piani alti della Santa Chiesa. Tuttavia, le scelte episcopali restano strettamente legate alle necessità delle singole comunità diocesane. I trasferimenti dovrebbero essere effettivi a ottobre, anche se una data certa non è stata ancora individuata. Chissà se la proposta di spostare tutto di un anno verrà presa in considerazione. Diversamente per i presbiteri che hanno promesso obbedienza al momento della loro ordinazione sacerdotale, la valigia sul letto è già pronta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.